Nell'ambito dei grandi protagonisti, i ragazzi cantano canzoni sarremesi, l'Academy e sarremese, tutte le puntate c'è un grande protagonista del Festival di Sanremo e abbiamo iniziato con Bonolis il quale avrà poi anche però l'opportunità di fare questa sorta di showdown, come l'abbiamo chiamato noi, cioè negli ultimi quattro in classifica di decidere chi salvare e quindi alla fine, anche perché ogni puntata avremo due eliminazioni, alla fine avrà un compito anche come dire da sorta di direttore artistico nel senso di giurato, di super giurato all'interno di questa Academy, quindi adesso noi inizieremo con Bonolis tutte le puntate avremo, spero verrà a trovarmi anche Carlo Conti eccetera, cioè persone che hanno avuto a che fare con il Festival essendo ne stato grandi protagonisti, come giuttori, come personaggi comunque di rilievo del Festival. Per quanto riguarda Richard Gere, lui vuole parlare con i nostri ragazzi e quindi di musica, di vita, di tante cose mi piaceva l'idea di avere comunque una grande star di Hollywood che comunque è una persona che è molto impegnata nel sociale oltre al fatto che mi piace anche l'idea di avere un grande attore come Richard Gere.